La maternità surrogata è una pratica che offende la dignità delle donne e i diritti dei bambini. Ad affermarlo è un appello sottoscritto da 500 aderenti alla rete No Gestazione per Altri. Attiva dal 2019 e composta da intellettuali parlamentari politici e femministe, in buona parte appartenenti ad ambienti di sinistra. Indirizzato ai parlamentari italiani ed europei, l'appello chiede di assumere iniziative a livello europeo e internazionale per il bando della gestazione per altri e di sollecitare il Parlamento a individuare una soluzione equilibrata a tutela di tutti i bambini. Perché al centro della proibizione c'è la volontà di non mercificare il corpo della donna, il corpo fecondo direi della donna e la sua creatura e mettere al centro la relazione madre-creatura che precede il diritto, precede la legge. Non è un fatto sociale così che si può cambiare come se nulla fosse, ne va della civiltà umana e ne va delle creature che vengono al mondo. Diffuso mentre è in discussione alla Commissione Giustizia il disegno di legge sull'utero in affitto reato universale proposto da Fratelli d'Italia, l'appello è stato sottoscritto oltre che da Aurelio Mancuso, Goffredo Bettini e Giorgio Gori, anche da ex senatori del PD come Valeria Fedeli, Caterina Biti e Andrea Ferrazzi e da femministe storiche come Francesca Izzo, Cristina Comencini, Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo.